Dimissioni del sindaco di Favara 24 ore dopo. Viste le conseguenze giudiziarie a cui è soggetto chi amministra la cosa pubblica, quale persona nel prossimo futuro si prenderà la responsabilità di andare a ricoprire la scottante poltrona lasciata a vacante dall'avvocato Domenico Russello? Questo l'interrogativo che i tanti soggetti politici dovrebbero porsi in vista della prossima campagna elettorale. Responsabilità appunto è la parola chiave su cui dovrebbe basarsi l'impegno di quanti delegati dal popolo agiscono per il bene della collettività. Per raggiungere tale scopo si devono seguire determinati principi per il cui rispetto appunto ritorna in campo la responsabilità. Non entrando nel merito dei provvedimenti della procura della Repubblica di Agrigento che sta indagando su 11 persone, una cosa però bisogna dirla. Se nell'azione di governo una forte inversione di tendenza si sarebbe adottata facendo rispettare la gerarchia dei poteri e responsabilità nella macchina organizzativa dell'ente comune, si sarebbe arrivato a tanto? Questa invece è la domanda che noi poniamo a chi domani si proporrà alla guida della città. Fare il sindaco a Favara è una vera missione. Diverse sono le difficoltà e responsabilità a cui si va incontro. Non si può solo essere presi dall'entusiasmo di gestire una comunità di 38 mila abitanti per poi non essere in grado di farlo.